Una volta in possesso delle tessere chiederei ai colleghi di fare in fretta Battelli Misiani Sarti è chiusa la votazione la Camera respinge quattro favorevole con riformulazione Molteni va bene vuole votare ok onorevole Fedriga la riformulazione è a valutare l'opportunità di appunto il governo ci chiede scriviamo nell'ordine del giorno il collega Molteni scrive a valutare gli effetti applicativi e nel caso applicare con urgenza ogni provvedimento utile anche normativo che consenta di evitare ingiustificate richieste di adeguamento delle garanzie sui finanziamenti e il governo ci chiede di mettere a valutare di adottare provvedimenti se le richieste sono ingiustificate perché deve valutare se adottare dei provvedimenti nel caso di richieste ingiustificate mi sembra una posizione folle del governo quindi chiediamo di votare bene va bene allora il governo non mi sembra abbia intenzione di cambiare il parere metto in votazione l'ordine del giorno numero 4 Molteni a questo punto con il parere contrario del governo ho capito bene onorevole bene parere contrario del governo è aperta la votazione grazie